Gran parte della regione settentrionale di Chernyiv è coperta di neve. Un gruppo di militari ucraini in mimetica è messo alla prova nelle esercitazioni finalizzate a identificare e respingere i sabotatori russi. Un'organizzazione danese ha consegnato forniture di vestiti caldi ai soldati. L'associazione ha raccolto il denaro per acquistare dell'abbigliamento invernale professionale per gli ucraini in trincea. Ma l'inverno rende difficile anche la vita dei civili. Nelle aree liberate gli ucraini sono impegnati a preparare le loro abitazioni alle temperature gelide, come Viktor che nei pressi di Nikolaev cerca di rimettere in piedi la sua casa distrutta dagli attacchi russi.